L'unico è il scambio di un po' comune. La mia leggenda del genitore del XII secolo. Desideri ascoltare la mia epica storia? Oh, ma sì, certo, meraviglioso scambio. Qualsiasi... Ok, vedi, mi racconto la mia leggenda. Era un caldo giorno di fine estate. No, era un flambo. A quel tempo io ero vittivo. Fatti, dovrebbe pensare che forse era più bello. Ero vittimissimo, persino tra le leggende del XII secolo, e un contivo monosco. Le belle donne si confondevano stavolette. No, invece era il frattempo. Allora, anche il prezzo di adesso, ero un uomo affilato con il polterno. E tutti lo davano per le grazie.